Potenziata la presa in carico dei pazienti pediatrici nei giorni prefestivi e festivi nel Casentino e nella Valtiberina, il nuovo modello organizzativo del percorso pediatrico attivo da oggi è stato introdotto dall'azienda sanitaria per rispondere in maniera integrata e multiprofessionale ai bisogni di salute e assistenza dei più piccoli. La ASLA Toscana Sud-Est al fine di rispondere all'esigenza della continuità assistenziale e alle richieste delle associazioni di genitori dopo la fase sperimentale che ha visto la presenza sino al 15 giugno del pediatra il sabato mattina ha definito un nuovo progetto di stretta collaborazione tra pediatri di libera scelta e pediatri ospedalieri per garantire l'integrazione tra ospedale e territorio, ma non solo. Il percorso coinvolge infatti anche il pronto soccorso dei due presidi ospedalieri del San Donato di Arezzo e gli infermieri territoriali. In particolare è previsto il triage nel pronto soccorso dei presidi dei due territori e un eventuale trasferimento per consulenza presso il punto di pronto soccorso pediatrico a retino anche con l'attivazione del trasporto sanitario in caso di necessità. Sarà poi attivato il teleconsulto pediatrico tra pronto soccorso e pediatria dell'ospedale San Donato e la continuità del numero telefonico del pediatra di guardia attivo 24 ore su 24. Il modello di presa in carico prevede anche una specifica formazione sulle emergenze pediatriche rivolta ai medici del pronto soccorso e agli infermieri, ma anche ai momenti di scambio con i medici di famiglie pediatri di libera scelta. Saranno inoltre organizzati appuntamenti informativi con i genitori dei territori della Valtiberina e del Casentino sulle principali patologie pediatriche. Nel presidio ospedaliero del Casentino sarà infine ripristinata ogni venerdì la presenza del pediatra neonatologo.